In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il Pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro, non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle piccole perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Bellissima questa convocazione. Come un allenatore di calcio convoca i calciatori per affrontare una partita o un torneo, così Gesù convoca i discepoli per la missione alle pecore perdute della casa di Israele. Ma come avviene questa convocazione e cosa produce nei discepoli? La convocazione avviene per una chiamata. Gesù li chiama a sé. Con qualcuno, tipo Simone, Gesù si sente in diritto addirittura di cambiargli nome. Il dare un nome, il cambiare il nome, il chiamare a sé, dice una cosa semplicissima. Gesù possiede questi discepoli. Ne diventa in un certo senso proprietario. E infatti il Vangelo cita i suoi dodici discepoli. I suoi. Ora quei discepoli fan parte non tanto di una squadra nuova, ma appartengono all'allenatore stesso. Cosa produce questa convocazione nei discepoli? Appunto un cambio di appartenenza. Ora appartengono a Gesù. Sapete perché ancora oggi alcuni ordini religiosi chiedono il cambio di nome quando si fa la professione solenne? Proprio per questo motivo, per visibilizzare questo passaggio di proprietà. E sapete anche che il passaggio di proprietà dei costi. Il costo, in questo caso, è il lasciar tutto.